Mentre Genova è in ginocchio per il crollo del ponte sulla 10 e sui social, tanti aretini esprimono il loro cordoglio per la tragedia e i dubbi sulla sicurezza di questa e di altre strade, si riaccende la polemica su un altro ponte molto più vicino a noi, Ponte Buriano, dove finalmente è iniziata la seconda parte di un restauro conservativo e di sicurezza che non era più rimandabile. Un intervento che la nostra emittente aveva più volte caldeggiato in numerose trasmissioni e sempre abbiamo anche dato spazio ai problemi della cosiddetta viabilità alternativa durante la chiusura dello scorso anno. Ora che finalmente si interviene non mancano però le polemiche e le proteste. Le ultime arrivano dai consiglieri comunali di minoranza del Futuro Insieme a Castiglion-Fibocchi. Dopo l'interrogazione, dicono, presentata dal nostro gruppo consigliare a sindaci in regione, province e ministero per porre l'attenzione sui disagi derivanti dalla chiusura di Ponte Buriano, apprendiamo dai giornali le ultime indicazioni sulle modalità di sospensione del traffico sul tratto interessato in parziale accoglimento delle nostre rimostranze e proposte. Il Ponte Bailey, da più parti auspicato, non sarà realizzato, proseguono i consiglieri di minoranza a Castiglion-Fibocchi, visti gli alti costi di attuazione, ma vi è un impegno di manutenzione sul tratto alternativo che attraversa il Castelluccio, che impone verifiche e controlli adeguati per rendere il tratto sicuro. Resta però la problematica dei mezzi pesanti che incide sulle attività commerciali, industriali e di servizio. Il Ministero dovrà di concerto con gli organi istituzionali trovare i fondi necessari per risolvere definitivamente il problema. Lo slittamento della chiusura, detta del futuro insieme, ci dà solo un po' di respiro, ma non risolve il problema. Gli eventi di Genova ci ricordano quanto sia urgente intervenire e dunque, aggiungiamo noi, a Ponte Buriano, bene che sia stato fatto, anche perché con la mole di traffico abituale i rischi di possibili crolli c'erano tutti. Proprio a Genova è arrivato nel frattempo l'apporto anche dei vigili del fuoco della Toscana, in particolare l'elicottero Drago del nucleo di Arezzo.